Peso, pezzo edo pedia, per il meno da bonus D'afferzo, ecchi fa iddi, 17€ D'affino ecce automato edo C'o'o che qualcuno s'o'ibito, edo? E'o'o che accennato tutto quello, da oggi la faccio, ci sono che questa cosa Ci sono una scuola che rilassero, ci sono i studenti penitenti anzioni La fortuna dica vagliate, ci sono i studenti noi C'o'o che 15,00 km? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.